Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione, informazione che questa sera ovviamente si concentrerà su quello che è accaduto a Venezia, Venezia travolta dalla marea eccezionale, un territorio in ginocchio, la situazione è difficilissima per una città preziosa e tanto vulnerabile. Oggi è arrivato anche il presidente del Consiglio Conto per rendersi conto di quanto accaduto. Ieri sera il sindaco Brugnaro, mentre le varie immagini del disastro viaggiavano in rete, ha chiesto aiuto affinché il territorio non venga abbandonato. Venezia è in ginocchio, la città più bella del mondo, devastata dall'ondata eccezionale di acqua alta. È stata una notte lunghissima quella trascorsa da cittadini, soccorritori e amministratori locali, con in testa il sindaco Luigi Brugnaro che non ha staccato nemmeno un secondo. La marea è salita arrivando a 1,87, l'acqua non ha risparmiato nulla e la violenza del vento ha aiutato a peggiorare la situazione. Le strade della città lagunare sembravano torrenti che trascinavano ciò che trovavano. Imbarcazioni evaporetti, sospinti, senza controllo, staccati dagli ormeggi e lanciati dalla violenza della natura sulla terraferma. Mezzi ingovernabili che hanno provocato il terrore anche tra passeggeri e personale. La situazione è apparsa gravissima verso le 23, quando i timori hanno iniziato ad essere fondati. Dalle 23 in poi la rete ha cominciato a far circolare i primi video. Impressionanti le immagini che fanno rabbrividire. Il sindaco di Venezia è sempre stato presente, appellandosi immediatamente al governo di non lasciare sola la città. Venezia continua ad essere angustiata da queste acque eccezionali. L'anno scorso e quest'anno è uguale. Chiediamo al governo di partecipare e capire a che livello è l'organizzazione del Mose, perché qui si rischia veramente di non farcela più. Comunque domani chiederemo lo stato di calamità cittadina e chiediamo che ci diavano a mano perché qui i costi saranno tanti. Siamo qua e stiamo ancora aspettando che probabilmente può continuare a salire ancora. Abbiamo raggiunto un altro record, purtroppo negativo. Abbiamo bisogno che tutti ci diavano a mano e bisogna essere tutti uniti per affrontare questi che sono evidentemente gli effetti dei cambiamenti climatici. Non solo Venezia è stata travolta dall'acqua alta, in ginocchio anche Pellestrina, dove gli abitanti si sono ritrovati le abitazioni piene di acqua e così anche Chioggia in molte zone. Mareggiate hanno interessato il litorale dell'intero nord-est. Le spiagge sono devastate. A Jesolo le ondate hanno portato l'acqua del mare fino in Piazza Mazzini. La mareggiata ha devastato gli stabilimenti balneari anche a Isola Verde. Insomma, Jesolo, Eraclea, Caorle, Bibione e Cavallino non avevano mai visto una situazione simile. È partita la conta dei danni, ma ci vorranno giorni per comprendere la portata totale di questa devastazione. Una devastazione, come avete sentito, che riguarda più territori del Veneto. La situazione è particolarmente grave anche a Pellestrina, dove un uomo è morto mentre tentava di azionare una pompa per ripulire la casa allagata. E a Pellestrina gli abitanti dicono e chiedono non dimenticatevi di noi. Quest'isola, poco distante dalla città, ha subito delle conseguenze gravissime. La maggior parte delle abitazioni sono state invase dall'acqua e nella notte sono divampati anche numerosi incendi e i vigili del fuoco non si sono fermati. Un momento. Numerosi gli incendi che sono scoppiati in seguito agli allagamenti a causa di sistemi elettrici che sono andati in cortocircuito. A Pellestrina un uomo è rimasto ucciso folgorato. Stava cercando di far partire una pompa per liberare la sua abitazione che era stata invasa dall'acqua. La scarica lo ha preso in pieno senza dargli scampo e a nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorsi. E proprio i sistemi elettrici entrati in contatto con l'acqua hanno provocato dei roghi. Interessato dal fuoco anche il Museo Capesaro, dove è crollato parte del solaio. Incendio anche in un edificio commerciale del Lido. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato assieme al personale del nucleo sommozzatori per liberare la circolazione acqua a causa dell'affondamento di diversi inattanti che hanno rotto gli ormeggi. Centinaia le operazioni di soccorso effettuate dai vigili del fuoco e tante sono ancora in corso. Mercoledì mattina è entrato in azione anche l'elicottero per visionare la situazione dall'alto. a Pellestrina e ha individuato i luoghi idonei dove sono state posizionate le pompe ad alta capacità di aspirazione. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con personale arrivato da comandi limitrofi. In mattinata a Venezia è arrivato anche il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Datti, lo ha accompagnato dal capo dell'emergenza Guido Parisi e il capo della protezione civile, Angelo Borrelli. E a Mestre è stata allestita una sala con le forze di soccorso e per i coordinamenti. Sentiamo allora un primissimo bilancio di quanto accaduto, in particolare un assunto della situazione. L'unità di crisi della protezione civile attivata martedì sera dal presidente del Veneto Luca Zaia nella sala operativa regionale dove sono operativi l'assessore regionale Giampaolo Butteaccin e il direttore della protezione regionale l'ingegner Luca Soppelsa comunicano un primo aggiornamento sui danni provocati dal maltempo registrati nella notte, in particolare a Venezia. Numerosissimi danni nel centro storico della città lagunare una sessantina le imbarcazioni danneggiate molto pesantemente tra le quali alcuni vaporetti. A Capesaro si è verificato un incendio a causa di una cabina elettrica danneggiata. Al momento la situazione è più critica oltre a Venezia si registra a Pellestrina dove c'è stata anche una vittima. Molti gli allagamenti per recuperare i quali sono in corso numerose operazioni da parte dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Criticità si sono registrati lungo la costa da Venezia fino al confine con Lignano. Molti i danni per il vento e le mareggiate che nel caso di Jesolo hanno raggiunto la zona di via Baffile. Numerosi gli interventi nei comuni di Cavallino Treporti e Jesolo per alberi abbattuti. Per quanto riguarda la situazione elettrica si registrano problemi in numerose aree del litorale fino a Venezia. Gli operatori Enel hanno lavorato tutta la notte. Al momento le situazioni critiche sono localizzate per problemi di bassa tensione. Viene costantemente monitorata la situazione dei fiumi. C'è stata una rottura arginale sul fiume Lemene a Marango di Caorle. Nonostante le piogge non siano state particolarmente intense, i fiumi hanno superato la prima soglia, ma attualmente grazie alle previsioni in miglioramento sono in recupero. Naturalmente continueremo a seguire l'evolversi di questa situazione davvero difficile e preoccupante per Venezia e non solo. Ci occupiamo adesso di altri fatti che riguardano il nostro territorio. Si è conclusa con il sequestro preventivo di un immobile del valore di oltre 4 milioni di euro e la segnalazione all'autorità giudiziaria di 7 persone un'indagine della finanza di Treviso sul fallimento di una nota società immobiliare trevigiana. L'attività della Polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica ha permesso ai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Treviso di individuare operazioni e fatti aziendali connotati dall'obiettivo di depauperare il patrimonio aziendale della fallita. In particolare è stata accertata una distrazione di liquidità per oltre 800 mila euro e un opificio industriale del valore di oltre 4 milioni di euro che è stato fatto confluire nel patrimonio di una nuova società gestita da prestanome ma di fatto riconducibile secondo le indagini allo stesso prestanome. Gli indagati sono accusati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio. Questa mattina alle 11.30 era prevista a Brescia l'udienza davanti al Tribunale del Riesame nella quale Felice Maniero doveva chiedere la scarcerazione e l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Bresciano. Maniero era stato arrestato lo scorso 18 ottobre a Brescia dove vive da tempo con una nuova identità con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna che dopo la denuncia è stata trasferita in una struttura protetta. Parliamo di un incendio scoppiato nelle prime ore di questa mattina. La segnalazione è partita verso le 7.30 Fiamme altissime a San Pietro in Gu in provincia di Padova Fuoco un'azienda che tratta anche materiale plastico e adesivo. Incendio in un'azienda di materiale plastico che si trova in provincia di Padova Le fiamme sono divampate nelle prime ore di mercoledì mattina Alle 7.30 in via Cavura a San Pietro in Gu sono arrivate squadre dei vigili del fuoco da Cittadella, Vicenza e Padova erano presenti 25 uomini e 9 mezzi dei pompieri In due ore e mezza sono riusciti a circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero all'intero edificio Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal comandante dei vigili del fuoco Vincenzo Lotito Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata Nel momento dell'emergenza il sindaco ha diramato un avviso comunicando l'attivazione del piano di protezione comunale e del centro di coordinamento comunale presso l'ufficio del settore tecnico consigliando di rimanere chiusi in casa tenendo chiuse porte e finestre fino a nuove indicazioni L'ARPA va eseguito dei prelievi nell'aria per stabilirne la qualità Attraverso il sito del comune è possibile rimanere informati Incontri nelle piazze nei centri commerciali delle principali città con la misurazione della glicemia dibattiti nelle scuole manifestazioni per invitare all'attività fisica illuminazione di blu nelle principali città con la collaborazione delle amministrazioni comunali sono alcune delle iniziative promosse dalla società italiana di diabetologia in occasione della giornata mondiale del diabete che si celebra il 14 novembre e che quest'anno ha come tema Diabete proteggi la tua famiglia proprio per sottolineare il ruolo centrale che la famiglia ha nell'assistenza e non solo delle persone con diabete La Guardia di Finanza di Verona con il supporto di IMSS e INAIL ha scoperto 240 lavoratori irregolari e 7 in nero tutti di una stessa cooperativa Il risultato è frutto di una serie di controlli volte al contrasto del lavoro sommerso e dello sfruttamento di mano d'opera che ha avuto come epicentro una società cooperativa operante nel settore dell'assistenza alla persona I finanzieri hanno contestato a questa cooperativa irregolarità per oltre 830 mila euro evasione contributiva pari a oltre 300 mila euro nonché una base imponibile INAIL di oltre 530 mila euro il datore di lavoro è stato denunciato e adesso vediamo che tempo farà sul nostro territorio la perturbazione che ha interessato in queste ore il territorio si è spostata gradualmente verso est lasciando spazio una temporanea fase di tempo più stabile con comparsa di schiarite fino alla prima parte di giovedì seguirà poi un nuovo progressivo peggioramento associato a una nuova saccatura di approfondimento sull'Europa occidentale che porterà nuove precipitazioni dalla serata di giovedì e avremo già prevista una giornata di maltempo molto forte per venerdì e poi domenica ci sarà un nuovo impulso perturbato l'evoluzione però rimane ancora incerta dunque con la prossima edizione vi daremo tutti gli aggiornamenti io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata con i programmi di Telecittà arrivederci di mare vi ringrazio vi ringrazio Grazie a tutti.